I profumi della natura, il vento tra i capelli e il sole sulla pelle. Sono Francesco, vieni con me alla scoperta di un nuovo mondo e un nuovo modo di vivere l'auto. Apri il tetto, scegli la strada, dai un filo di gas e schiaccia sul volume. La vita è più bella se il tuo viaggio è cabrio. Con le giornate più lunghe è arrivato il tempo di respirare l'avventura. Mini cabrio nelle versioni One, Cooper e Cooper S. Metti in moto e parti, destinazione libertà. Senti a te. Grazie a tutti.